Buonasera Presidente, una partita che si era messa malissimo, rigore sbagliato da Gallaccio. Gol subito e poi si è riuscito nella rimonta. Qual è stato l'elemento che ha scosso la squadra e ha cambiato la partita? Beh diciamo la grinta dei ragazzi, stasera eravamo ben messi in campo, quindi io già dall'inizio ho visto una bella squadra messa in campo. Sì, abbiamo sbagliato il rigore, però ci siamo sempre stati. Poi i ragazzi hanno dato il fritto perché comunque stiamo a giocare contro una dei più forti, quindi stasera posso essere molto soddisfatto e ripartire così per noi va benissimo. Ripartire così non era facile, dopo il lungo stop forzato, ritornare in campo e battere i campioni d'Italia è una grande impresa e soprattutto andare in semifinale di Coppa battendo la squadra candidata al titolo da morale. Sì, sì, da morale penso che abbiamo battuto la squadra più forte, quindi possiamo solo che andare avanti e cercare di fare molto meglio. Obiettivo è andare avanti, arriva fino alla fine. Obiettivo la finale, ma anche in campionato vorrete sicuramente arrivare fino in fondo e se giocare così sicuramente le occasioni saranno tante e vi togliere soddisfazioni. Sì, ci toglieremo soddisfazioni come dicevi tu e a questo punto ci giocheremo tutte come fossero finali.